Nonostante la loro fosse stata una relazione burrascosa, i due ex fidanzati, lui di 35 anni, lei poco più giovane, avevano deciso di riprovarci. L'ultimo incontro mercoledì sera in centro a Galatina è culminato nella corsa in ospedale per il ragazzo, colpito da diversi fendenti e dimesso dall'ospedale di Trecase con una prognosi di 30 giorni. Andiamo con ordine. In serata la coppia che nei giorni scorsi aveva ricominciato a sentirsi per recuperare la relazione naufragata si è data appuntamento nel centro del paese. Ne è nata una discussione e la ragazza avrebbe contattato telefonicamente il padre per chiedergli di venire a prenderla. Quando l'uomo, un 52enne del posto, è sopraggiunto in auto nei pressi del piazzale stazione, è nato un acceso di verbio con l'ex fidanzato della figlia. Dalle parole i due sarebbero poi passati ben presto alle mani, tanto da rendere necessario l'intervento sul posto dei carabinieri e di un'ambulanza del 118. Ad avere la peggio il 35enne che, all'arrivo in nosocomio a Trecase, è stato subito medicato per le diverse ferite da taglio riportate al braccio e provocate verosimilmente con un coltello di piccole dimensioni e un taglierino, arma mai trovata. Il 52enne è stato denunciato per lesioni gravi, ma non è escluso che possa sporgere una controdenuncia a sua volta. Intanto le indagini sono affidate ai militari, al vaglio, le telecamere della zona e l'ascolto di chi ha assistito alla zuffa.